ciao a tutti da me e da pomettino molto bene andiamo 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 dove andiamo non lo so peschiamo ok uno mi è saltato in mano come piccolo questo foglino vediamo un po questo foglino essere sembra essere dentro da molto vediamo laurel o ha un sacco di colori lei veramente tanti è come si fa qui non lo so questa è difficilina perché ha tanti 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 colori comunque adesso la vado a prendere così vediamo tutti i colori e poi vediamo un attimo cosa fare perché qui non è così semplice è molto bene ed eccola qua vicino a pomettino come dicevo prima ha un sacco di colori allora nei capelli abbiamo il giallo l'arancio il rosso e il fucsia e sono già quattro poi qua abbiamo il bianco perfetto l'oro qua il latone io ormai lo chiamo latone e poi abbiamo questo colore qua che è un rosa un fucsia ramai non ho questo colore cioè non so nemmeno come farlo quindi lo faremo diventare questa parte qua fucsia perché non ho la più pallida idea di non ho nessuna colore non ho niente che non lo so fucsia punto poi punto punto molto bene e anche nelle scarpe abbiamo gli stessi colori che abbiamo in testa quindi abbiamo detto il bianco loro latone fucsia giallo arancio e rosso ma quanti colori quanti colori e niente quindi adesso scelgo i pigmenti 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 scelgo lista scelgo tutto quello che devo scegliere e poi vediamo un po come fare perché sono veramente tanti 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 quindi serve uno stampo più piatto che non non lo so non lo so molto bene allora lo stampo che mi ha ispirato è questo qui che è composto da quattro pezzi che si uniscono adesso non so quanti ne farò dipende da quanta resina faccio ma comunque lo stampo è questo qua non ho capito come mai questo tipo di opaco degli altri ho sempre utilizzato questo molto probabile ma ora spostiamolo e vi faccio vedere i pigmenti che ho scelto allora abbiamo l'oro e il latone che andrò a mettere direttamente dentro nello stampo nella resina così senza mettere nel bicchiere ok e invece dovrò fare 52 bicchieri perché abbiamo tutti questi colori qua ho cercato anche di prenderli un po diversi volevo farli tutti in polvere così ma poi volevo anche dare un effetto un po diverso quindi ho scelto questo rosso che sarà un po grumoso super neon poi abbiamo liquido questo fucsia e il giallo ok e invece in polvere il bianco e l'arancione molto bene questi sono i colori quindi adesso con calma e tanta pazienza devo andare a fare uno due tre quattro cinque bicchieri con dentro tutto ciò e poi cominciamo a versare ok ok molto bene allora dopo un'eternità sono riuscita a fare tutti i color allora mi prendo a caso abbiamo il fucsia liquid house poi aperto ovviamente queste prima che mi dimentico poi abbiamo il bianco questo bianco è così bello con dentro probabilmente un qualcosa di strano che strano poi qua rosso super power fa cosa c'è il giallo e poi l'arancione che l'ho fatto bello power cioè guardate qualche aranciata cioè non per dire molto bene ora prendiamo lo stampo e lo mettiamo abbastanza visibile ok mettiamo qui allora questa è la parte io l'ho appena pulito porcaccia un po più opaca essendo che non so quanti ne riuscirò a fare direi di fare così ed è incredibile quanti peli pelini glitterini ci siano già dentro cominciamo non lo so mi sembra che mi sembra tutti opachi è incredibile cambia la prospettiva cambia la roba ma è sempre poco va bene allora partiamo dai primi due penso che due riesco a fare ci saranno molti glitter valgiatori perché mi sono tale balle che ogni volta che il nuovo esce fuori un glitter quindi sarà così vado mettendo un po di oro e un po di lattone fatto bene a prendere questo colore vedete c'è già uscita una bambola che a questo colore peccato per l'altro colore che veramente non ho capito però allora ora spruzziamo ma anche noi a volte capita di non capire i colori io a volte non riesco a comprenderli incredibile allora partiamo dal bianco ma questo bianco qua è molto delicato quindi non lo so se si vedrà ora metterò tutto così no a caso ovviamente e poi vediamo che cosa fa non li verserò uguali però più o meno siamo lì c'è questo rosso qua adesso farà da protagonista in una maniera power ma proprio power bellissimo da vedere ora peccato che adesso si mescolerà tutto sarà tutto ciò che dovrà fare però adesso manca il giallo e finiamo con l'arancione sono anche di curiosa di vedere il primo colore che finisce no sul guanto no però poi penso che ci siamo qua poi la cosa divertente sarà anche capire da quale lato sarà più carino fatemi vedere la altezza perfect perfect molto bene quindi direi di girarlo prima spruzziamo perché adesso con tutto la bocca che devo metterci adesso lo giriamo e facciamo penso di far riuscirne a farne ancora due la rischio la rischio probabilmente adesso che la resina in alcuni bicchieri già quasi finita in alcuni magari ci sarà meno colore e meno così però qua vado a mettere anche un po meno di questo perché li ho abbondato abbastanza quindi questo lo facciamo leggermente leggermente così va bene diamo una spruzzata e adesso cominciamo dall'arancio di arancio ce n'è ancora qualche piccola goccia tocca già al giallo che non ce n'è molto il giallo è praticamente così qual è il prossimo colore il bianco anche qual bianco non è chi ci dice però sono riuscito a metterlo e anche lui è tipo così poi mettiamo il rosso di rosso ce n'è abbastanza il rosso è quello che andrà ribaltare la situazione più di tutti perché ne ho messo di più ovviamente però guardate che belli che stanno venendo cioè manca ancora il fucsia adesso facciamo scivolare un po la resina perfetto e guardiamo il qua ci sono dei buchi però quindi cos'è che era avanzato un po mettiamoci un po di arancio non c'è quello di più tastiamo sempre con l'arancio ok ma a me sembra non lo so fatemi vedere fatemi capire mi sono incastrata allora io direi di metterci ancora qualche goccia ahia ho sbattuto dappertutto perché mi sembrano un po più sottili quindi devo andare ancora di rosso poi avevo messo l'arancio mettiamola anche di qua ok adesso basta 6 litri di resina allora questo è stato fatto e devo dire che dal dietro è incredibile poi non so cosa succederà ok adesso con le goccine di resina che sono rimaste vado potete fare una cosa proprio perché qua mi sembra un po' troppo vuoto faccio così perfetto con le goccine rimaste nei bicchieri vado a metterlo in uno stampo così a caso per togliere tutta la resina dei bicchierini e poi quando è il momento scopriamo tutto ma veramente bellissimo cioè vederle così top 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 molto bene molto bene ed eccoci tornati qua con l'Orel la tarsaruga e pomettino allora in più ho fatto questa piccola medusa mi è spiegato questa qua e ci ho messo dentro tutti i colorini chi più chi meno quella roba che proprio era avanzata nel bicchiere cioè la resina vabbè comunque allora direi di cominciare a scoprire questi qua e poi vediamo la medusa secondo me a vederle così spuntano molto di più i colori che ha nei capelli il bianco secondo me è stato un bel po' smangiucchiato il fatto che si vede è già un gran traguardo però ecco secondo me sono più i colori caldi power che tutto il resto quindi scopriamo parto a caso e vediamo un po' partiamo da questo qui ok lo stacco e lo guardiamo devo dire che il dietro è bellissimo quindi per secondo me adesso vediamo la parte davanti però anche questa parte qua è bellissima cioè è proprio bella e ci sta benissimo con lei e allora dietro devo dire che mi turba abbastanza quindi penso che da questa parte qua sia il top esattamente questa parte qua come dicevo non si sapeva quale parte non so se l'ho detto se l'ho pensato quale parte sarà come si dice il sopra e il sotto così è bella né questa parte però se vediamo questa è tutta un'altra cosa quindi questa qua la teniamo da questa parte molto bene probabilmente sarà tutto così però vediamo allora anche questa qua dietro è bellissima i colori devo dire che si vedono tutti chi più chi meno quindi top anche questa qui eh sì ovviamente saranno però che bella anche da questa parte cioè sono particolari c'è in un modo che dall'altro però questo qua forse perché è più lucido è perché questo qua è un po' opaco quindi non lo so io le terrei da questa parte di qua voi fatemi sapere da che parte le terreste perfetto adesso vediamo la prossima che sciccherina beh da dietro sono troppo belle esatto sono tutte così perché ovviamente l'ho fatta tutte nella stessa maniera quindi sarebbe strano che non venissero tutte nella stessa maniera comunque anche questa qua molto molto bella e finiamo con questa qui ok molto molto belle alcune sono un po' più sottili alcune un po' più alte ma vabbè devo dire che mi piacciono incredibilmente ci stanno molto molto bene con lei ci voleva un titinino in più di bianco ma il bianco si vede quindi comunque sono soddisfatta mi piacciono veramente tantissimo mi piacciono top 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 e adesso vediamo la medusa vediamo un po' da dietro ovviamente è bellissima la vediamo da davanti ok da davanti è tutta così oro e la ton quindi è top bellissima anche questa questa mi piace di più così però perché si vedono proprio i colori però anche da questa parte qua è bellissima molto molto bene quindi sono veramente molto molto soddisfatta ci azzeccano molto con lei tranne sempre come dicevo prima per il bianco però il fucsia il rosso l'arancio anche il fucsia è un po' tipo schiarito però in alcuni punti si vede di più quindi va benissimo va benissimo tu sei soddisfatto pomettino ti piacciono? sì perfetto ti ringrazio pomettino quindi ora momento agendina vediamo di non buttare via giù tutto quindi cerchiamo l'ore andiamo in prima pagina magari ok qua no eccola andiamo a buttare giù un pochettino oh no la piantina tiene su l'ore avevamo già fatto anche lo zenzio è vero? sì quindi porcaccia dobbiamo fare il colore vado a prendere il colore molto bene e andiamo a colorare l'ore perfetto allora wow un altro colorino qui non ne mancano molti su questa pagina molto bene quindi intanto io vi ricordo instagram link amazon e patreon giovane all'info box per chi volesse sopportare me e pomettino grazie grazie mille e grazie mille a Martina che è abbonata mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di queste creazioni pomettino direi che è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao